La gara è stata molto equilibrata, abbiamo fatto delle azioni molto belle, veloci e anche la nostra squadra è stata, come si può dire, veloce, si è impegnata, però non ce l'abbiamo fatta purtroppo. Grazie Davis per l'intervista a Mokklub per le prossime partite. Prego e forza Sporting! Ed ora siamo con Riccardo della Listo di Roma 3Z, mentre vediamo i gol della partita, anche lui chiediamo un commento su questa gara. È stata una partita molto bella, loro hanno una buona squadra, però alla fine siamo riusciti a giocare il nostro gioco e quindi anche a segnare. Abbiamo sbagliato anche delle azioni, però comunque siamo soddisfatti, perché sono arrivati le resi e non abbiamo subito neanche i gol. Grazie Riccardo per l'intervista, un boccalupo per le prossime partite. Sì, ok, saluto i miei compagni di squadra e forza lì sì! Grazie a tutti!